Addirittura andiamo a creare una compagnia assicurativa pubblica. Ecco, questo disegno di legge istituisce finalmente, nuovamente direi, perché già lo era, nuovamente in Italia, una compagnia assicurativa pubblica che fa concorrenza anche con quelle private. Voglio commentare le parole della Prestigiacomo, lasciano il tempo che trovano visto la persona da cui provengono. Per quanto riguarda l'incendio, lo sappiamo benissimo, diamo fastidio. Ora però le autorità accerteranno tutti i fatti, non vogliamo assolutamente marciarci sopra per la campagna elettorale perché sarebbe scorretto. Andiamo avanti, tanto i ragazzi stanno tutti bene, non ci lasciamo intimidire. La sede la rimetteremo a posto come è meglio di prima. Non mi provoca nessuna reazione la querela. Oltretutto io non ho avuto nessuna querela ancora. È una parola in una trasmissione. L'associazione si chiama Mobust, li vedevamo per strar, non perché noi siamo tuttologi, ma perché già... Allora, vi ringrazio tutti. Noi in realtà a Buono Mecubilani, San Gennaro, vabbè facciamo solo tavole. Noi non dobbiamo, diciamo, perché abbiamo anche ottenete... Noi non dobbiamo, diciamo, perché abbiamo anche un po' di più di più di più di più di più di più. L'ultima è stata quest'anno.